Un pacchetto da 100 milioni per aiutare le famiglie con ISEE fino a 40 mila euro comprese le coppie senza figli o con figli maggiorenni finora escluse dai sostegni. È contenuto nella legge di modifica al bilancio 2022 presentata dalla Giunta e approvata dal Consiglio Provinciale nella sessione di ottobre. Come spiegato dal Presidente della Provincia Arno Compaccer, per comporlo si era fatto ricorso a tutte le economie dei vari dipartimenti, a risparmi e a rientrate fiscali. 20 milioni di questa somma erano messi a disposizione dei comuni. La manovra, che comprende anche 4 milioni e mezzo per gli insegnanti delle scuole statali, che parte delle opposizioni ha giudicato insufficienti, è stata approvata con 20 sì e 12 astensioni. Le opposizioni hanno però contestato da un lato che l'Alto Adige non gestisse improprio la sua energia, dall'altro il deposito della somma per gli aiuti su un fondo di raccolta a disposizione discrezionale della Giunta. Con un ordine del giorno del Team Cane è stato previsto il resoconto in aula. Approvata in quest'ambito anche la proposta dei Freiheitlichen di rivedere il divieto assoluto dei pannelli fotovoltaici per edifici sotto tutta l'artistica, quella della Südtirole Freiheit per garantire il bonus di 600 euro anche ai lavoratori trasfrontalieri e quella della SVP per sostenere l'edilizia abitativa agevolata. Tra le mozioni dell'opposizione accolte quelle dei Fratelli d'Italia per garantire cure estetiche a pazienti ospedalieri. Dei Freiheitlichen al fine di avviare i passi per la più ampia autonomia possibile della provincia nel settore energetico. Quella promossa dal Team Cane è sottoscritta dalle consiglieri di tutti i gruppi consigliari per la promozione dell'imprenditoria femminile. Via Libera anche a proposte della SVP per l'introduzione di assistenti che sostengano l'onere burocratico dei team di valutazione della non autosufficienza, velocizzandone il lavoro, per contenere l'illuminazione natalizia ai fini del risparmio energetico, per un monitoraggio sul parassita boschivo del Bostrico con il coinvolgimento di esperti stranieri, per favorire l'indipendenza energetica di aziende e famiglie.